Ho un ex sangue dolce, adesso Barulli, 5 anni, Mufano, la maestra è Filomena, Mufano e niente. Lui ha fatto anche la sezione primavera, quindi è stato proprio, è cambiato proprio caratterialmente da quando ho iniziato a fare questa sezione primavera, però adesso con questo globalismo affettivo, è incredibile. Proprio l'altro giorno mi raccontava il fatto della storia del pettine, della E, e il bambino, l'albero, l'unione, è cambiato totalmente tanto che anche io dico certe volte ma che sto raccontando per com'è inventivo, per com'è diventato comunque capace anche di raccontare una piccola cosa, la fa in maniera comunque gigantesca. Io sono soddisfatta di di tutto questo sistema, questo modo comunque di approccio che viene fatto comunque con il bambino. Spero si continua anche perché io ho iscritto anche l'altro bambino l'anno prossimo, adesso frequenterà sezione primavera. Spero che abbia anche lui questo miglioramento caratteriale. La scuola non cambia, altrimenti non l'avrei iscritto nuovamente. Volevo fare i complimenti a chi ha inventato questa... E per questo sì! E niente, voglio fare i complimenti a chi ha ideato questo metodo e anche a nome delle altre mamme perché io sono portatrice di questa cosa perché tutti hanno trovato questo miglioramento in quasi tutti i bambini. Loro, ripeto, proprio l'altro giorno vi la stava raccontando al fratellino piccolo di due anni la storia dell'albero che si unisce. È una delle tante lettere perché loro le fanno ogni giorno, si può dire, una diversa. Quindi le storie vengono... è una cosa positiva. Grazie.